Non sarà un'avventura Le meravigliose canzoni di Lucio Battisti e Mogol, colonna sonora delle emozioni di tante generazioni, per la prima volta sono protagoniste assolute anche al cinema. Laura Chiatti e Michele Riondino sono gli interpreti del film di Marco Danieli Un'avventura, che esce il 14 febbraio per la festa degli innamorati, un musical che prende vita proprio intorno alle canzoni del mitico duo Battisti Mogol. Il film è realizzato con la consulenza artistica di Mogol. È una storia d'amore che inizia negli anni settanta. La tua musica è bellissima. Perché non è una promessa? Due giovani si innamorano, si perdono e si ritrovano. Pensavamo di essere speciali, Matteo. Lei, Laura Chiatti, assomiglia alla ragazza dalle bionde trecce della canzone del sole. Lui, Michele Riondino, è un musicista. Sono l'ora di interpretare alcuni grandi successi della coppia d'oro Mogol-Battisti, come un'avventura, acqua azzurra, acqua chiara, dieci ragazze, trasformate in immagini con le coreografie di Luca Tommassini. Come in La La Land o in Across the Universe, ispirato alla musica dei Beatles, il racconto nasce proprio dai testi delle canzoni. Il film nasce anche come un omaggio al genio di Lucio Battisti e Mogol, come in un'unica grande canzone d'amore. Il profumo di un amore puro, puro come l'amore.